Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 4 km di coda per un incidente adesso risolto al km 275 tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in A1 domani notte in orario 22.6 saranno chiusi i tratti tra Rioveggio e Aglio in direzione Roma e tra l'allacciamento con l'A1 direttissimo a Rioveggio in direzione Bologna. Traffico regolare invece in Fipilì. Per la viabilità cittadina a Firenze in via del Pignone fino al 26 novembre chiusura del tratto tra il Civico 51 e Lungarno del Pignone. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!